spazio di respiro di tre minuti possiamo farlo in qualunque posizione possiamo farlo con gli occhi aperti rivolti verso il basso o con gli occhi chiusi portiamo semplicemente l'attenzione all'interno alle sensazioni che ci derivano dall'ambiente in cui ci troviamo suoni stimolazioni odori e poi portiamo l'attenzione più all'interno alle sensazioni legate alla nostra posizione fisica al senso di pressione dei punti di contatto al contatto dei vestiti sulla pelle al contatto delle mani e delle braccia con il corpo al contatto dell'aria sulla pelle guardiamo se ci sono delle sensazioni emotive connesse o sconnesse alle sensazioni fisiche e com'è la qualità della mente in questo momento non il contenuto dei pensieri ma la loro qualità possiamo avere una mente sgombra e accogliente pensieri pesanti pensieri leggeri come nuvole bianche in un cielo d'estate e poi portiamo l'attenzione al respiro nel punto in cui c'è più facile percepirlo e seguiamo per qualche respiro tutta la nostra in ispirazione tutta la nostra ispirazione e poi ci prepariamo ad espandere nuovamente la nostra consapevolezza alle sensazioni fisiche alle sensazioni emotive alle qualità della nostra mente agli stimoli che provengono dall'ambiente e ripetiamo mentalmente va bene così posso aprirmi anche con questa esperienza piacevole spiacevole o neutra che sia la pratica del respiro di tre minuti è come una clessidra iniziamo con un'apertura della consapevolezza poi la focalizziamo sul respiro e poi apriamo di nuovo in questo modo consapevolezza e attenzione si intrecciano e ci danno la possibilità nel breve spazio di pochi minuti di dimorare nel presente di dimorare nella realtà così com'è grazie 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 grazie